Comunica e vai fisco che trovi e questo è il resoconto dell'indagine portata avanti dall'osservatorio nazionale della CNA che ha concentrato la sua attenzione sulla pressione fiscale nei confronti delle microimprese abruzzesi scoprendo con una classifica poco confortante che a pagare di più sono le città di L'Aquila, Spoltore e Lanciano ma le altre città non se la cavano meglio. Abbiamo cercato di tramutare questo 60% nei giorni che servono all'imprenditore di lavoro per produrre il reddito che serve per pagare le tasse e lo abbiamo chiamato Tax Free Day, cioè giorno della liberazione dalle tasse. In questo caso arriviamo in media verso metà agosto e alcuni comuni dell'Abruzzo arrivano a fine agosto, cioè si lavora fino a fine agosto solo per pagare le tasse. Secondo i dati un imprenditore impiega 214 giorni lavorativi per guadagnare la somma necessaria a pagare le tasse. Per fare cassa invece ne restano solo 151 nell'arco di un anno. Tra le voci che compongono il paniere ci sono IMU, Tasi, Tari, IRAP, IVS, IRPEF, addizionali regionali e comunali. Mediamente la pressione fiscale copre il 58,4% del reddito totale. L'appello di CNA è rivolto verso il Governo nazionale. Quello che incide sulle tasse locali è soprattutto i valori catastali che le varie amministrazioni applicano sugli immobili e sulle varie zone. sono di una differenza completamente diversa da un comune limitrofo all'altro e questo non deve essere regolamentato.